Ciao a tutti, bentornati sul canale Amoglitaliani.Tomaso Trussardi è finito al centro dell'attenzione nelle ultime ore, protagonista di un evento spiazzante Che cosa è successo? Tomaso Trussardi prosegue nelle sue due attività che ama maggiormente. Non stiamo parlando del lavoro, che in quel campo sappiamo già quanto eccelle, ma nello ruolo di papà singolo e umano preferito del piccolo Dino, suo amico inseparabile Non ama condividere i suoi momenti privati sui social, ma ogni tanto capita che faccia qualche regalo ai suoi fan Come per esempio, lo scatto molto tenero di lui insieme alle sue figlie, sole e celeste durante un'escursione in montagna, presso le tre cime di Lavaredo Nelle ultime ora però tra i fan si consuma un dramma e qualcuno sostiene che Tomaso sarebbe ancora scottato tanto da essere stessa a terra, come si legge in rete Cosa è accaduto? Riflettori puntati su Trussardi.Il profilo Instagram di Trussardi esplode ad ogni suo nuovo post Il pubblico e i fan della coppia che fu, con Michelle Hunziker non si sono mai resi La coppia piaceva e piaceva anche parecchio. Come spesso capita i fan sperano in una riconciliazione che pare però impossibile Entrambi sono lontanissimi infatti l'uno dall'altra. In una intervista di qualche tempo fa, la showgirl svizzera aveva semplicemente commentato, ci siamo persi Accade ai VIP come a tutti a noi, ma per quanto riguarda i personaggi noti c'è sempre una grande tristezza che rimane poi per molto tempo anche dopo la rottura I motivi della rottura non mai stati resi davvero noti poiché entrambi hanno mantenuto privacy e riservo I fan sono rimasti malissimo e si sono aggrappati a quelle poche parole degli ormai ex Tomaso e Michelle, per il bene delle loro figlie, continuano ad avere un rapporto civile, quasi di amicizia, così come la Hunziker ce l'ha anche con Eros Come aveva dichiarato la stessa Michelle, quando due compagni salgono su due macchine diverse, se vanno alla stessa velocità va tutto bene, ma se uno accelera la prima curva chi resta indietro non vede più l'altro Capita di perdersi. Tutti ci speravano nel rivedere la Hunziker e Trussardi insieme, ma le cose stanno così e tutti se ne devono fare una ragione, soprattutto dopo che Michelle ha confermato quel ci siamo persi Purtroppo ad oggi non si sono più ritrovati.Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me Arrivederci, al prossimo video